C'è l'accordo con il Governo per recuperare le risorse che sono venute meno nei bilanci regionali a causa della pandemia e della conseguente crisi economica, ha affermato Donato Toma, che ha presieduto la Conferenza delle Regioni. Si tratta dell'accordo ratificato in videoconferenza per assicurare le risorse necessarie all'espletamento delle funzioni regionali per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19. Sono risorse indispensabili, ha spiegato Toma, per garantire servizi essenziali ai cittadini, dalla sanità all'istruzione, dal trasporto pubblico locale all'assistenza. Il rischio era di far saltare i bilanci regionali e quindi i servizi. È previsto il riparto del fondo nella proporzione di un terzo per le Regioni a statuto ordinario e due terzi per le autonomie speciali. Viene così ripartita la quota già assegnata dal Decreto-Legge 34 di un miliardo e mezzo per il 2020, assegnando mezzo miliardo alle Regioni a statuto ordinario per la compensazione delle minori entrate e il restante miliardo alle autonomie speciali. Nell'accordo peraltro è stabilito, per continuare a garantire gli equilibri di bilancio, di prevedere l'inserimento in un prossimo provvedimento dell'integrazione di 1,2 miliardi di compensazione di minori entrate per le Regioni a statuto ordinario e di 1,6 miliardi per le autonomie speciali. Infine preoccupano, sottolinea Toma, i meccanismi di finanza pubblica che bloccano gli investimenti regionali. È paradossale, infatti, che dopo aver dato un contributo fondamentale alla ripartenza, le Regioni ora non possono anche farsi carico del rilancio economico del nostro Paese, non potendo fare investimenti perché costrette al rispetto dell'equilibrio di bilancio. Quindi le Regioni non possono finanziare spesa corrente per non indebitarsi e sono l'unico comparto pubblico che deve rispettare sia gli equilibri di bilancio che contribuire a precisi obiettivi finanziari già prefissati.